Per parlare un po' di Marine Le Pen, governerete assieme quando avrete vinto la Commissione? L'obiettivo è questo. E poi con chi altro? Con quelli che ci stanno, stiamo tessendo alleanze con tanti popoli e paesi. I nostri alleati sono al governo in Austria. Abbiamo incontrato finlandesi, polacchi, olandesi, belgi, tedeschi. Stiamo lavorando sulla Spagna, paesi baltici, ungheresi. Vediamo, poi decidono gli europei il 26 maggio. Avete bisogno di 7 paesi per fare un gruppo? No, saranno ben più di 7. Sarete ben più di 7? L'obiettivo è 27. L'obiettivo è esserci ovunque. Avremo un problema forse a Malta, perché non abbiamo grandi relazioni con Malta. Però vediamo.